Firenze blinda uno dei suoi artisti più geniali. Mario Monicelli, scomparso nel 2010, avrebbe compiuto quest'anno 100 anni. Non era di Firenze, era nato a Roma, ma aveva vissuto per un periodo della sua gioventù a Viareggio, rimanendo molto legato a quella città e a tutto il territorio toscano. Il regista aveva girato a Firenze uno dei film più conosciuti e apprezzati in Italia e all'estero, un vero e proprio capolavoro della commedia all'italiana. Amici miei è una pellicola che non invecchia mai. È stato realizzato esattamente 40 anni fa ed è ancora molto moderno nelle sue trovate. Le zingarate di un gruppo di amici inseparabili e sempre pronti a inventare scherzi, bischerate da sottoporre ai malcapitati di turno. Le avventure del conte Mascetti, Perozzi, Necchi, Sassaroli e Melandri sono ormai scolpite nella vita quotidiana di Firenze. Un film che ha fatto la storia del cinema ed è diventato esso stesso storia della città, raccontandone il carattere sarcastico, cinico, quell'umorismo un po' cattivo ma pur sempre burlone. È il compleanno dello spirito dei fiorentini perché una piazza come questa gremita di fiorentini e non dimostra come dietro quella ironia feroce che sta antipatica a molti c'è però un amore per la vita, per la sua durezza anche che tanti fiorentini e non sanno apprezzare. Mario Monicelli l'ha immortalata in un modo incomparabile, ineguagliabile e la bellezza di quel film, la sua malinconia sono ormai unite al nome di Firenze. Per noi è veramente un onore poterlo festeggiare, è la prima città italiana che ricorda i cento anni di Mario Monicelli e l'amore di tanti non fiorentini per amici miei dimostra che sono in molti quelli che riescono a cogliere l'amore per la vita che c'è dietro anche la causticità dei fiorentini. E così la città di Firenze ha voluto celebrare questo doppio compleanno ricordando il maestro Monicelli e il suo capolavoro. In piazza Santo Spirito è stato proiettato il film Amici miei sulla facciata della Basilica. Prima è stato trasmesso un cortometraggio diretto da Federico Michale e Iuri Parrettini intitolato L'ultima zingarata, ispirato proprio a una delle scene del film, il funerale del Perozzi in Santo Spirito. Ospite d'eccezione della serata è stata l'attrice Atina Cenci, che grazie al film Speriamo che sia femmina di Monicelli fu premiata come miglior attrice non protagonista. Anche lei si è unita al brindisi al grande maestro sul Sagrato della Chiesa, insieme a tutti i fiorentini che hanno riempito la piazza per omaggiare Mario Monicelli e ridere insieme davanti a un film immortale come Amici miei.